piacque al signore che lo vedessi così non era grande ma piccolo e molto bello con il volto così acceso che pare bruci tutto in ardore divino e vedevo nelle mani un lungo dardo d'oro che sulla punta di ferro mi sembrava avesse un po di fuoco pareva che me lo confliggesse più riprese nel cuore così profondamente che mi giungeva fino alle viscere e quando lo estraeva sembrava portarselo via lasciandomi tutta infiammata di grandi amori di dio il dolore della ferita era così vivo ma era così grande la dolcezza che mi infondeva questo enorme dolore che non c'era da desiderarne la fine nell'anima poteva pagarsi d'altro che di dio grazie a tutti